La soddisfazione è tanta, abbiamo avuto l'aeronautica militare che all'inizio ha fatto un passaggio per l'elicottero con l'inno nazionale italiano, abbiamo aperto le danze in questo modo, poi abbiamo fatto due ore di gioco, prime mete under 6, under 8, under 10, ci sono sfidati in campo sempre sotto l'acqua e abbiamo fatto giocare la mixed ability, ragazzi speciali che abbiamo dato un focus particolare a loro, abbiamo fermato tutte le altre attività e abbiamo dato un focus, è stata una cosa bellissima, molto emozionante, questa è una soddisfazione enorme, abbiamo avuto tanti ospiti, iniziare da Sergio Zorgi, abbiamo avuto il comitato regionale, abbiamo avuto l'amministrazione pubblica, tanti altri ospiti importanti. Poi alla fine dobbiamo ringraziare lo chef Massimo Bellitteri che appoggiandoci alla mezza fraterna ha fatto mangiare circa 300 ragazzini, grazie a tutti i volontari del nostro club che sono tanti, oggi hanno risolto tantissimi problemi. Tanta roba, tanta roba perché intanto ho visto emozione ed è la cosa che secondo me è fondamentale quando c'è uno sport, quando ci sono dei bambini, quando ci sono dei ragazzi che giocano. Ho visto anche organizzazione però, attenzione, questi ragazzi dei fenici in poco tempo, in 20 minuti hanno dovuto cambiare qualcosa, piove, avevano disposto tutto fuori, hanno dovuto organizzarsi tutti dentro. E dunque ho visto collaborazione, collaborazione di questa gente che si è data una mano e tutti correvano, si davano una mano e questo è il rugby, permettetemi di dire che questo è il rugby. E allora qua ai fenici rugby si gioca un rugby vero, autentico, che deve essere di lezione a tutto il mondo del rugby perché lavorano sulle emozioni, sulle persone, sugli individui. E io sono orgoglioso, orgoglioso, onorato di essere qua con loro. È andata molto bene perché, dice bene Sergio, il rugby è uno sport che ti insegna ad adattarti e ad andare avanti. Mi piace pensare che la nostra autenticità ci porta ad essere regbisti non solo sul campo ma poi anche fuori, per cui la capacità di sapersi riadattare e saper ricostruire da zero un qualche cosa per poter andare avanti. Ogni anno dimostriamo di essere un bel gruppo, che lavoriamo per i bambini e continuiamo a dedicarci a loro sempre. Quest'anno abbiamo dimostrato di essere ancora più squadre, ci siamo adattati in un momento di difficoltà e siamo riusciti a ricostruire un evento. Magari abbiamo giocato pochino, però abbiamo soddisfatto tutte le persone che sono vede qua e le abbiamo lasciate contenti e diciamo hanno portato a casa anche una bella esperienza. Questo è il nostro millenete.